I militari della forestale di Monopoli hanno posto sotto sequestro, lungo la strada statale 16 in direzione sud all'uscita Monopoli, presso località Baione, un autocarro utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti speciali, ingombranti e non pericolosi, sprovvisto di titoli abilitativi. Nello specifico si trattava di rifiuti miscelati provenienti da demolizione ed ile per un totale di 15 quintali, costituiti principalmente da cemento depezzato, blocchetti in cemento e piastrelle. Il conducente dell'autocarro è stato deferito all'autorità giudiziaria.